Povero Paolo, se mi dovessero dire non è morto, è cieco, o sì che parte col pezzare da me, o sì, però morto il cieco, io preferisco il cieco. Ha capito di morire. Povero Paolo, mischi! Guardate il suocero, tenetelo d'occhio che non commetta qualche sciocchezza irrimediabile. A me fa paura con quel suo aspetto quasi inepetito. Guardate se deve stato così. Sbagliati! Dati tu! E' mai possibile una cosa simile? Vede, la signora e sua figlia deve capire che non c'è stata nessuna malucanza di rispetto senza il suo dolore da parte nostra. Io non ci capisco più niente. Purtroppo, questi signori con un'altra legatezza tratti il corpo è semplice. Che nezza? Lasciami qui! Sono venuti qui, lasciando un altro, e venite il mio povero marito! Oh! Ma che cosa è meglio? E' la prima volta che sento un fatto simile! Il suo discorso è il nostro corso delle due! E' la prima volta che sento un'altra legatezza! E' la prima volta che sono i nostri aiutori, la prima volta che sento un'altra legatezza! Qua volta passava l'altra legatezza!